Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TV City. La campagna rischia di diventare zona rossa. Decisivo in queste ore l'incontro tra il governo e l'Istituto Superiore della Sanità. Fuori controllo la situazione nel fine settimana tra aperitivi e passeggiate sul lungomare. Aumentano i contagi anche nel Vesuviano, 49 casi a Torre del Greco e un decesso. Situazione critica anche a Castellammare. A Del Colano chiuso un noto locale. Si festeggiava un compleanno con 30 invitati. Sul fronte della sanità facciamo il punto sulla situazione degli ospedali dell'Asl Napoli 3 Sud con i rappresentanti della CGL e della UIL. Spazio anche alla cronaca. Weekend di controlli ad opera della Guardia di Finanza. Non sono mancate le sanzioni. In chiusura lo sport con la Turris. I corallini battuti in casa dal Potenza. Intanto scoppia la polemica sulla questione stadio tra il presidente Colantonio e il sindaco Palumba. Guardiamo i servizi. Campania rischia di diventare zona rossa. Tra poco si riunirà la cabina di regia per l'emergenza Covid, rinviata ieri su richiesta di alcune regioni. Le anticipazioni sul rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sembrano preludere a cambiamenti nella mappa tricolore. Al lavoro sulle cifre e sui 21 parametri che stabiliscono le tre aree di rischio, ci sono il governo, la cabina di regia sul Covid e lo stesso CTS. Il verdetto, con il consueto rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, slitta rispetto ai tempi annunciati. Nella fase di validazione dei dati da parte delle stesse regioni, per la quale è prevista una tempistica massima di 24 ore, alcune hanno chiesto più tempo. La fascia di rischio alta incombe sulle regioni. Campania, Veneto e Toscana rischiano di abbandonare la zona gialla e l'Alto Adige, in anticipo, diventa già zona rossa. A puntare il dito molti sindaci. Per quello di Napoli, Luigi De Magistris, proclamare la campania zona rossa è una decisione purtroppo inevitabile, anzi è una decisione tardiva. Sono molti anche i cittadini che non si sentono tranquilli con le nuove misure e lamentano la mancanza dei controlli adeguati. Soprattutto la scorsa domenica mattina è diventata l'emblema delle contraddizioni dell'ultimo DPCM. In quasi tutte le città, in fascia gialla, le persone si sono riversate in strada tra passeggiate su lungomare, aperitivi nei bar aperti e pranzi fuori. Complice anche la giornata soleggiata. Pochi sindaci che hanno deciso di prendere provvedimenti per contrastare questi fenomeni. Il decreto, infatti, affida ai primi cittadini la possibilità di chiudere aree particolarmente frequentate del comune, per evitare assembramenti e predisporre controlli utili a contrastare le trasgressioni. Invece la situazione è parsa fuori controllo, con traffico al collasso e folla nelle vie del centro. Ancora in crescita la curva epidemiologica. In Campania, nella giornata di ieri, registrati ulteriori 4.601 casi positivi su 25.806 tamponi effettuati. In totale, quindi, sono 86.919 le positività in Campania. Continua a crescere il numero dei contagi anche nella città di Torre del Greco. Nella giornata di ieri certificate altre 40 positività, tutte in forma sintomatica. 4 invece i nuovi casi di guarigione. In totale sono 527 i cittadini positivi. A Torre Annunziata sono 13 nuovi contagi e 9 le guarigioni, per un totale di 354, di cui 138 guarite e 8 decedute. Nella città di Ercolano i cittadini attualmente positivi al Covid sono 491. Intanto intensificate i controlli della Municipale al fine di scongiurare assembramenti e garantire il rispetto delle norme anticontagio da Covid-19. Ispezionate varie attività commerciali. In particolare è stato sanzionato, con una multa di 400 euro e la chiusura immediata per 5 giorni, la terrazza Vesuvius. Gli agenti hanno accertato la mancata registrazione dei clienti presenti all'interno del locale, la mancanza dei cartelli con indicazione del personale e assembramenti in atto. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. A Castellammare di Stabbia, nelle ultime 24 ore, ulteriori 22 cittadini risultati positivi. Tra i nuovi casi ci sono 5 persone che presentano sintomi e 17 asintomatici. Sale dunque a 889 il numero dei cittadini positivi al Covid-19. Una leggera flessione rispetto ai contagi giornalieri dei giorni scorsi, che però non fanno gioire. Il sindaco Gaetano Cimmino, infatti, fa notare che l'attuale calo dei nuovi contagiati sia dovuto con ogni probabilità al minor numero di tamponi lavorati nel fine settimana. L'obiettivo, spiega il primo cittadino di Castellammare di Stabbia, è quello di arrivare al periodo natalizio nel miglior modo possibile per tutelare tutte le realtà economiche e commerciali del territorio. Se ciò deve significare oggi mettere in campo azioni ancora più drastiche della chiusura della villa comunale, siamo pronti a farlo. A Bosco Reale sono 6 i cittadini guariti dal Covid-19 e 40 nuovi positivi, di cui 12 sintomatici. Pronti soccorsi che funzionano a singhiozzo, contagi tra gli operatori sanitari, mancanza di posti letto. Nella Napoli-Tressudo non mancano le criticità nei presidi ospedalieri da Sorrento, ottore del Greco, nella gestione dell'emergenza sanitaria. Nella lunga intervista in collegamento con TV Siti, in programma questa sera alle 21, sulla pagina Facebook della nostra emittente, i coordinatori aziendali della CGL e della UIL Funzione Pubblica, Michele Maddaloni e Gennaro Cesarano, fanno una fotografia puntuale e dettagliata della situazione nei vari ospedali dell'azienda, analizzando le difficoltà del momento e mettendo in campo alcune proposte per i vertici aziendali. Sotto i riflettori, le difficoltà che vivono tutti i giorni gli operatori sanitari e le carenze della rete territoriale. I contagi che si sono avuti nel presidio di Bosco dei Case sono sovrapponibili ai contagi che si sono avuti di tutti gli altri presidi ospedali dell'Altra, ma mentre negli altri presidi ospedaliere c'è una commissione tra quello che noi chiamiamo tra virgolette e sporco politico, il percorso infettivo e il percorso non infettivo, tecchi e anti-tecchi, insomma come vogliamo dire, là nel Covid doveva essere una storia passata, non è stato così, sicuramente non per colpa di diritto della struttura e né tanto meno per gli operatori della struttura, il problema è la non preparazione. Noi non nasciamo, almeno in questa azienda, non c'è una sola unità operativa che si occupa di malattie, quindi noi non nasciamo con questa peculiarità, non siamo attrezzati né preparati né formati ad avere tutte le precauzioni, però l'epidemia c'è, l'epidemia bisogna combatterla, l'epidemia sta facendo i danni che si sta facendo. I cittadini sono disorientati e chiedono risposte in termini assistenziali anche per le altre patologie. Aperti al momento i pronti soccorsi di Castellammare, Torre del Greco, Sorrento e Nola. I cittadini sono disorientati perché effettivamente non si riesce a dare, come dire, una sensazione anche di giusta assistenza. Ospedale e territorio deve essere un'integrazione che si deve, come dire, concretizzare in tempi rapidi se no non ne usciamo. Noi abbiamo ospedale che cura patologie covid e no covid come quello di Nola. Abbiamo l'ospedale di Castellammare che cura patologie covid. Abbiamo l'ospedale di Torre del Greco, io parlo di pronto soccorsi aperti, quindi tre ospedali con pronto soccorsi aperti, anzi quattro, Sorrento, Castellammare, Nola e Torre del Greco. Quindi questi sono i presidi dove ci si può rivolgere per poi affrontare anche le patologie covid. Anche questo per dare un'informazione all'utenza. Chiaramente al direttore generale che cosa noi chiediamo? Soprattutto l'integrazione ospedale e territorio, la rete territoriale deve essere potenziata. Chiaramente è senza dubbio necessario aprire altri posti letto perché la gente ormai non sa più dove andare e quindi ritengo che comunque nelle strutture dove si può, mi riferisco alle strutture che già sono magari fanno già covid e eventualmente trovare spazi e risorse umane per poter aprire perché non è possibile ulteriori posti letto senza personale. Poi dobbiamo anche dire un'altra cosa, le returnazioni nelle attività covid devono essere concure, non si può pensare di spolpare questo personale che sta in questi ambienti per orari prolungati che non rientrano negli standard nazionali. Certamente l'attività del cento diciotto è sotto gli occhi di tutti che è in sofferenza, quindi anche qui un'attenzione e bisogna trovare delle soluzioni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana in città e sull'area metropolitana il dispositivo dei controlli volti a verificare rispetto delle misure di contenimento della diffusione del covid. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 588 persone e 130 attività commerciali, 16 le sanzioni complessive. Molteplici sono stati anche gli interventi coordinati dalla sala operativa per il controllo della Movida, tra il centro storico e il lungomare e il vomero, in cui le fiamme gialle hanno invitato le persone ad indossare correttamente le mascherine e a sciogliere gli assembramenti. Nel quartiere Gianturco sono stati sottoposti a sequestro 2.500 flaconi di gialligenizzante per le mani privi di qualunque etichetta o certificazione di conformità ed è stato segnalato alla Camera di Commercio un 26enne di origine cinese per violazioni al codice del consumo. Nell'area metropolitana la compagnia di Castellamare di Stabia ha sanzionato sul Corso Garibaldi una cartolibreria all'interno della quale si erano formati degli assembramenti ordinando la chiusura provvisoria per 5 giorni, mentre in via Annunziatella ha sequestrato 1.300 mascherine chirurgiche. Le compagnie di Giuliano in Campania e Torre del Greco, rispettivamente a Qualiano e nella medesima città corallina, hanno invece sanzionato 4 giovani, due nel primo caso perché sprovvisti della mascherina, gli altri due poiché sorpresi in strada senza giustificato motivo. E ancora il secondo gruppo, in servizio nella zona del porto di Napoli adibita agli imbarchi per le isole del Golfo, ha notato un giovane diverso a terra nelle prossimità della biglietteria. Il ragazzo, un 29enne di Arcore, che aveva fatto perdere nei giorni scorsi le sue tracce, era apparso da subito in stato confusionale e si trovava in crisi insulinica. I finanzieri hanno quindi attivato il 118 che lo ha trasportato all'ospedale dei Pellegrini per le cure del caso e sono riusciti a contattare i genitori. Inoltre, come spesso succede dai controlli anti-covid, sono emerse anche situazioni illecite tipicamente d'interesse delle fiamme gialle, come il persistente fenomeno di contrabbando di sigarette. A riguardo sono stati sanzionati complessivamente 7 soggetti, di cui 5 denunciati a piede libero e sequestrati circa 10 kg di sigarette di contrabbando. Anche nell'area metropolitana, le compagnie di Torre del Greco, in via Faranga, ha sequestrato 2,2 kg di sigarette di contrabbando, denunciando un quarantenne del luogo. Seconda sconfitta in campionato per la Turris, che cede sotto i colpi del Potenza, trascinato dalle reti di Cianci. Nessun alibi per la squadra di Mister Fabiano, che pur giocando a viso aperto, non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni create. Nel primo tempo, nonostante i primi 20 minuti di sofferenza, la Turris riesce a concedere poco, anche grazie a un'ottima prestazione dei centrali difensivi. Secondo tempo opaco per i biancorossi, che faticano ad accendersi in zona goal e subiscono la leda del vantaggio avversaria al 56esimo. Al 75esimo, Reinone commette fallo in area di rigore. Dal dischetto, Cianci firma il raddoppio per il Potenza. Sconfitta da metabolizzare in fretta per i torresi, che a mercoledì affronteranno il Foggio in trasferta. Nel post partita si è espresso anche il presidente Colantonio, che si dice tranquillo nonostante la sconfitta, consapevole del fatto che una squadra intenta a salvarsi possa avere alti e bassi. Il padron Corallino si è detto però preoccupato per la questione legata alla nuova convenzione per la gestione dello Stato Liguri. Ad oggi ci è stata proposta una convenzione di un anno, in cui non solo dobbiamo sborsare una cifra di 40.000 euro, ma dobbiamo farci carico anche di tutte le spese che nella normalità aspetterebbero al Comune. Queste le parole di Colantonio, che in un'annata condizionata dagli Stati chiusi reclama collaborazione da parte del Comune, ricordando però che ad oggi non accetterà la nuova convenzione. Alle dichiarazioni del numero 1 Corallino seguono in queste ore quelle del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, che risponde con fermezza e si dice perplesso riguardo le preoccupazioni espresse da Colantonio. Mi corre l'obbligo di ricordare e precisare che per ben due volte il presidente è stato invitato ed ha partecipato al Palazzo di Città ad incontri per discutere con l'amministrazione e con i tecnici comunali le modalità e le caratteristiche che hanno portato alla stesura dell'atto di convenzione, con la possibilità di esprimere anche le proprie idee. Il sindaco ha ribadito inoltre che l'attuale amministrazione è l'unica che negli ultimi 30 anni è investito concretamente nella riqualificazione dello stadio. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione all'email redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro Tg.